Con il rito della lavanda di piedi e la messa in cena ad omini celebrati ieri, si entra nel vivo delle celebrazioni pasquali. Tempo centrale di tutto l'anno liturgico, il Triduo Santo celebra gli eventi del mistero pasquale, ossia l'istituzione dell'Eucaressia, del sacerdozio ministeriale, con il comandamento dell'amore fraterno, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Suggestivo il rito della lavanda di piedi, semplice carico di significato, esprime il valore dell'amore verso i fratelli, che si traduce in accoglienza e ospitalità, cioè in servizio permanente. Tale rito, citato nel Vangelo da Giovanni, evidenza il gesto di Gesù nei confronti degli apostoli e simboleggia l'importanza dell'umiltà e della condivisione. La giornata di ieri si è poi conclusa con la visita e l'adorazione degli altari della reposizione, tradizionalmente detti sepolcri, chiese affollate per l'omaggio agli altari, dove viene riposta e conservata l'Eucaressia al termine della messa, che ricorda l'ultima cena di Gesù. Il Venerdì Santo, invece, è dedicato alle tradizionali processioni. Ad Andria, con la processione di misteri, sfilano i simulacri, i crociferi e la reliquia della Sacra Spina. Un giorno particolarmente caro a Monsignor di Donna. La vice postulazione del Venerabile ricorda una data strettamente legata alla Croce di Cristo, quello dello sposalizio mistico con la croce, che avvenne il 26 marzo 1926, Venerdì di Passione, nel quale tradizionalmente si ricorda il dolore della Vergine Maria. In questo giorno, il religioso trinitario, al termine degli esercizi spirituali e prima di partire missionario in Madagascar, volle coronare il suo incontro con Cristo, con questo evento fortemente spirituale. Volle unirsi interamente al suo maestro attraverso un matrimonio particolare, quello con la Croce di Cristo. Da Andrea Barletta, dove anche in questo Venerdì Santo, all'imbrunire dalla storica Basilica del Santo Sepolcro, prende avvio il suggestivo e messo corteo che procede in silenzio per le vie del centro cittadino. Il secondo corteo processionale è legato alla devozione per la Santa Reliquia della Croce del Signore, compatrona della città con San Ruggero e la Vergine Santissima dello Sterpeto. La preziosissima reliquia è un segno del profondo e secolare legame che lega Barletta alla Terra Santa, giunta a Barletta nel 1291 al tempo delle crociate con il patriarca di Gerusalemme Randulfus, che in città ricevette asilo ed ospitalità, e gelosamente custodita nel tesoro della Basilica del Santo Sepolcro.